L'aumento dei contagi in alcune zone ha portato il governatore Attilio Fontana a firmare ieri un'ordinanza che colloca quattro comuni lombardi in zona rossa a partire dalle ore 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio. Si tratta di Castrezzato, in provincia di Brescia, una delle più colpite dalla pandemia in queste settimane, Vigiu nel Varesotto, Mede nel Pavese e Bollate alle porte di Milano. In questi comuni, si legge nell'ordinanza, è stata rilevata nei casi positivi al virus la presenza di mutazioni oggetto delle azioni per la prevenzione e il contrasto alla diffusione delle nuove varianti. Con l'ordinanza firmata da Fontana, si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, una sospensione che riguarda anche asili nidi e scuole materne. Resta salva, si legge nel documento, la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le disposizioni sono valide fino a mercoledì 24 febbraio.